Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qua sul mio canale Oggi ragazzi siamo qua tornati a un nuovissimo video Perché oggi siamo qua tornati in un video un po' diverso dal solito In un video un po' particolare Questa è una vera e propria prediction Ma una prediction diversa dal solito Like, iscrizione e campanella Mi raccomando, seguitemi sui social Instagram GeronGamer Tiktok Geron2JUV Canale YouTube Gaming GeronGamerGaming Canale YouTube GeroonGamerR Detto questo Direi che possiamo partire Perché questa è la formazione che io schiererei Ve la farò vedere qua alla mia sinistra E voi vedrete la formazione per l'appunto Molti probabilmente si chiederanno Come mai faccio in questo momento questo video a marzo E perché non lo fai a maggio, giugno quando si ha magari un quadro più chiaro lo faccio ora perché voglio farlo ora poi magari potrebbe essere una serie che potremmo fare di mese in mese quindi che cavolo non so in base alla performance dei calciatori potremmo farla tra un mese se ci sono degli infortunati se ci sono dei calciatori che rendono di più però questa qua è la formazione che io scherrei partiamo dalla porta in Italia ci sono davvero molti portieri bravi se ne parla poco in realtà perché spesso il calcio italiano viene criticato giustamente però dei portieri italiani su me meriterebbero più attenzione perché abbiamo forse i migliori portieri al mondo abbiamo veramente i migliori portieri al mondo escludendo i vari Neuer, Courtois eccetera eccetera però veramente di anno in anno ci sono sempre più portieri italiani che si stanno allenando molto bene e che in tanti meriterebbero delle chance in tanti meriterebbero delle chance in Italia ha molti portieri bravi come vi stavo dicendo fatto sta che io schiererei Donnarumma allora a me Donnarumma non fa impazzire a me Donnarumma sinceramente non fa impazzire lo schiererei per due motivi il primo è che comunque serve secondo me un portiere anche abbastanza esperto nel senso tu all'europeo secondo me non ti puoi presentare con tutti i calciatori giovani cioè l'europeo è una competizione che dura un mese in quel mese tu devi dare il 110% quindi avere più calciatori di esperienza è una ottima cosa Donnarumma è uno di quei giocatori che è comunque convocato stabilmente regolarmente dall'Italia da molti anni a me Vicario personalmente piace di più però andare all'europeo subito con Vicario titolare mi sembra un po' troppo mi sembra un po' troppo io onestamente partirei con Donnarumma partirei con Donnarumma e poi vedremo il da farsi vedremo il da farsi anche perché c'è differenza tra giocare gli amichevoli e gli europei poi oltre a Vicario e Donnarumma ce ne sono tanti dei portieri di Gregorio che forse si avvicina a Vicario poi c'è lo stesso Falcone, Perin stesso, Provedel, Meret che comunque è convocato spesso quindi in Italia ci sono davvero tanti portieri che meriterebbero un posto da titolare all'europeo però io schiererei Donnarumma non sarete d'accordo probabilmente molti vorranno Vicario però ripeto c'è esperienza, c'è differenza a giocare un europeo e delle amichevoli quindi comunque io mi voglio fidare anche di Spalletti che ha spesso difeso Donnarumma e quindi io vado a mettere Donnarumma partiamo con la difesa 3 il modulo scelto è il 3-4-2-1 poi ve lo andrò a spiegare con il primo difensore, con il primo braccetto di sinistra che è Bastoni ho scelto Bastoni perché secondo me l'Italia non ha dei difensori straordinari io personalmente non amo i difensori italiani nel senso sono bravi sì ma non mi fanno impazzire Bastoni stesso a me non è che piaccia al 100% come giocatore non è un calciatore che mi convince particolarmente in questo momento però se andiamo a guardare tutti i difensori è quello che secondo me è più bravo alla fine è uno secondo me più bravo quindi io partirei con Bastoni schierato sul centro-sinistra come difensore centrale al centro della difesa vado a mettere Gianluca Mancini per quanto sia antipatico c'è da dire che Gianluca Mancini è uno dei difensori che quest'anno sta facendo meglio in stagione soprattutto dall'arrivo di De Rossi sarà antipatico questo sì ma nel calcio non contano simpatie e antipatie ma bensì quando sei bravo e Mancini in questo momento merita una merita la titolarità perché da buongiorno magari anche in prospettiva più forte è vero però andare all'europeo con buongiorno titolare ho i miei dubbi ho i miei dubbi ho i miei sinceri forti dubbi e quindi io schiererei Bastoni, Mancini e l'altro difensore centrale è Darmian ecco Darmian è quello che mi convince di più Darmian forse è il difensore centrale in questo momento che mi garantisce di più perché ha esperienza raramente sbaglia fa sempre il suo professionista esemplare non si lamenta mai quindi Darmian è un calciatore che veramente apprezzo molto Darmian è veramente un calciatore che apprezzo molto quindi per me lui è quello che è uno dei difensori più bravi in questo momento che abbiamo se ne parla pochissimo ma Darmian sta veramente facendo l'ennesima stagione positiva all'Inter quindi io punterei su questi tre poi ce ne sono altri nel senso che ci sono i vari Buongiorni, i vari Scalvini ma a me Scalvini non ha mai convinto tantissimo Gatti eccetera eccetera però in questo momento io andrei con questi tre fatemi sapere se siete d'accordo come esterno di sinistra Federico Di Marco ecco questa è una certezza io penso che qui ci siano pochi dubbi Di Marco sulla sinistra perché Di Marco è uno dei esterni più forti del campionato che abbiamo perché sì c'è Udoge che non è male anche se non mi fa impazzire nel senso che a me Udoge piace come calciatore però l'ho visto in difficoltà in fase difensiva più di qualche volta e quindi in questo momento voglio assolutamente schierare Di Marco voglio assolutamente schierare Di Marco ed è l'esterno di Granlunga che abbiamo più forte anche dei convocati nel senso che comunque delle convocazioni secondo me Di Marco è uno degli esterni con più qualità che abbiamo quindi lo schiererei assolutamente sulla sinistra i due centrocampisti magari vi stupirò magari vi stupirò ma io vado con Giorginio in primis perché Giorginio è un calciatore forte a me piace Giorginio è un calciatore forte e quest'Italia ha bisogno di Giorginio quest'Italia ha bisogno di Giorginio perché è un calciatore con esperienza ha vinto tanti in carriera è vero negli ultimi anni probabilmente le sue prestazioni non sono state alla pari di altre però anche all'europeo ha fatto comunque bene all'europeo ha fatto comunque bene un calciatore di esperienza è un regista sa di tali tempi di gioco mi convince a me Giorginio convince sinceramente ad andare a panchinarlo non mi sembra il caso non mi sembra il caso come altro centrocampista io schiererei Cristante è vero forse è un centrocampo un po' troppo difensivo forse è un centrocampo troppo difensivo però in questo momento vi posso dire e questa cosa la dico anche da parecchio tempo che a me Barella in nazionale non ha mai convinto tanto a me Barella in nazionale non ha mai convinto tanto mi è piaciuto decisamente di più Cristante quando è stato schierato comunque Cristante è stato convocato nell'ultimo europeo a pure disputato una finale e con l'inghielkar ha giocato bene ragazzi e secondo me Cristante quello che merita di più di giocare ai titolari insieme a Giorgini in questo momento perché ci sono i vari frattesi ok ci sono i vari Barella Locatelli non merita una titolarità per come sta giocando purtroppo ci sono tanti altri centrocampisti ma secondo me si parla anche poco di Cristante ma è uno di quei giocatori che secondo me sta crescendo sempre di più lo abbiamo visto alla Roma con Murigno con De Rossi eccetera eccetera quindi Cristante merita di essere i titolari insieme a Giorginio secondo me sulla fascia destra schiero Giovanni Di Lorenzo perché Di Lorenzo a me non fa impazzire anche lì Di Lorenzo a me non fa impazzire probabilmente l'esterna tutta fascia non è proprio il suo ruolo può giocare anche come braccetto in una difesa tre ma lo si va anche un po' a sprecare a me non fa impazzire quest'anno a Napoli sta facendo fatica non sta avendo una buona stagione ma c'è da dire anche che tutto il Napoli sta rendendo male però l'anno scorso di Lorenzo tanta roba l'anno scorso di Lorenzo tanta roba secondo me dovrebbe essere titolare secondo me dovrebbe essere titolare detto questo passiamo agli ultimi tre giocatori come detto il modulo è il 3-4-2-1 vi vado a dire il primo trequartista che io scherrei ed è Pellegrini Pellegrini perché con De Rossi è completamente rinato sta facendo una stagione al di sopra delle aspettative con Conigno invece stava underperformando invece con De Rossi sta secondo me overperformando secondo me Pellegrini è uno che in base all'allenatore che ha il suo rendimento cambia mi sembra uno molto morale almeno secondo me poi magari mi sbaglio però vedendolo anche con Fonseca con Munigno con De Rossi mi sembra uno che in base al tipo di allenatore che ha rendi in maniera diversa rendi in maniera diversa però Pellegrini io lo schiererei perché prestazioni merita di essere schierato al di fianco di Pellegrini ma magari mi beccherò gli insulti qua nei commenti non ho l'idea ma ci metto Raspadori Raspadori al fianco di Pellegrini magari qualcuno non sarà d'accordo magari in molti non saranno d'accordo però in questo europeo non hai Bernardi senz'altro perché sei infortunato Chiesa in questo momento non può fare secondo me il titolare almeno nelle prime partite all'europeo e a me Raspadori piace io Raspadori lo vedo con un trequartista sotto la punta che poi vi andrò a dire è vero probabilmente Raspadori non merita di essere un titolare fisso però l'Italia secondo me non ha tutta sta qualità in attacco ha dei buoni giocatori però questa Italia non è una nazionale di qualche anno fa non è una nazionale che aveva giocatori più forti non aveva un Chiesa informissima Raspadori a mio avviso è quello che mi convince un po' di più poi ripeto non sarete probabilmente d'accordo Amen però io lo schiererei perché comunque è uno che l'anno scorso al Napoli ha fatto molto bene quest'anno sta facendo fatica sì probabilmente però Raspadori anche in nazionale ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore ecco Pellegrini e Raspadori sono i due trequartista ma come punta di riferimento io ci vado a mettere Matteo Retei anche qui andare all'europeo titolare con Retei non so se sia la cosa migliore del mondo però trovatevi un giocatore che in questo momento merita di giocare titolare all'europeo scamacca merita no perché non ha la testa immobile non lo merita perché non che sia scarso anzi a me immobile piace molto stiamo parlando di un giocatore che ha realizzato 200 gol in seria ma immobile dal punto di vista fisico è messo malissimo le prestazioni non sono delle migliori quindi Retei per prestazioni merita la titolarità non mi fa impazzire come titolare perché a me piace tanto Retei però da qui a dire che può giocare titolare all'europeo contro squadre anche molto forti forse non è la cosa più sensata del mondo però ripeto trovatevi un giocatore che in questo momento merita di giocare titolare come punta al al pari di Retei io sinceramente non ne trovo quindi questa è la mia affermazione 3-4-2-1 con Donnarumma Bastoni Mancini Darmian in difesa centrocampo composto da Di Marco Giorginio Cristante e Di Lorenzo i due tre quartisti Pellegrini e Raspadori e lì davanti troviamo Retei che spara la porta è un buon giocatore può migliorare sicuramente anche nella contiguità anche negli infortuni perché ha avuto qualche acciaccio di troppo quest'anno a Genua però Retei è anche uno che appunto al Genua ha dimostrato di saper far gol segna anche gol belli e di conseguenza io lo scriverei titolare poi sono d'accordo non è la cosa migliore del mondo non sarà un fenomeno ma merita sicuramente la titolarità di più di altri attaccanti ciao ragazzi ciao a tutti